L'imperium, a quello che ho capito io, è un rapporto con gli dèi. L'elemento dal basso significa, a quel che ho capito, che c'è una città coinvolta, ma non è che vi siano forme di rappresentanza come la intendiamo noi. Io sono fortemente discontinuista, non mi sento di portare la concettualità, come avete visto, molto complessa, anche molto difficile da definire, che ha portato il professor Brizzi, di portarla dentro lo Stato moderno, che è davvero un'altra cosa. Per spiegarci dobbiamo capire questo, dobbiamo distinguere alcune fasi e alcuni modi di esistenza dello Stato moderno. Lo Stato moderno non nasce come Stato nazionale, non necessariamente, in ogni caso è lo Stato che forma la nazione, non è una nazione che forma lo Stato, in primo luogo. in secondo luogo lo Stato moderno nasce empiricamente sotto il profilo storico, reale, nasce attraverso una nozione di rappresentanza, che non è quella di cui parlava il professor Brizzi ovviamente, ma non è nemmeno la rappresentanza come la intendiamo noi. Il re di Francia, così ci capiamo subito, un re come Luigi XIV, Stato, non necessariamente Stato nazionale, Stato cristiano, afferma, sa, è consapevole di rappresentare la Francia, ma non perché è stato investito dalla Francia, assolutamente no, rappresenta la Francia davanti a Dio, cioè risponde, egli re di Francia, risponde a Dio di quello che fa la Francia e dunque per questo motivo deve ad esempio perseguitare gli eretici, perché Dio gli chiederà conto di questo. Questo è un modo di pensare alla rappresentanza che non è quello di cui parlava il professor Brizzi evidentemente, perché ci sono due religioni completamente diverse in ballo, ma non è nemmeno la rappresentanza nostra, come la intendiamo noi a norma di Costituzione, perché nella rappresentanza nostra il rappresentante non risponde di quello che facciamo noi, al contrario deve rispondere di quello che fa lui il giorno delle elezioni. E quindi è un universo completamente differente. Che cosa c'è di veramente differente? Beh, due principi, il cristianesimo secolarizzato e l'individuo come nucleo fondamentale della società, che è un'invenzione tutta moderna, oltretutto per via protestante tipicamente, ma comunque è un'invenzione tutta moderna. L'individuo che per legittimarsi si proclama popolo, cioè quando nella modernità si dice popolo, da una certa fase piuttosto tarda in poi si può intendere il popolo come una nazione, cioè con una certa densità ontologica connessa. Ma molto più banalmente, agli inizi del razionalismo politico moderno, quando si dice popolo, è un insieme di individui che si fanno forza e pretendono di essere qualche cosa, di contare, dicendo beh, dopotutto siamo tutti noi. Cioè è un discorso quantitativo che ha come obiettivo assolutamente esplicitato quello che vi è uguaglianza. Uguaglianza di individui atomici, molti, che pretendono di auto-rappresentarsi. Questo è lo Stato moderno nella sua origine teorica, cioè Hobbes, e lo Stato moderno dopo un lungo periodo, quando diventa Stato come minimo liberal costituzionale, come minimo, e in mezzo perché ciò avvenga, è necessario che venga rovesciata la figura storica che invece c'era, cioè lo Stato moderno, non nazionale, non necessariamente nazionale, fondato sul concetto di rappresentanza di Luigi XIV. Ecco, cioè alcuni elementi, molti elementi materiali necessari all'esistenza dello Stato moderno sono stati accumulati in una logica statuale ma non nazional rappresentativa. Cioè minimo perché ci sia uno Stato ci vuole un territorio, una popolazione, un centro di potere, un sistema anche primitivo di burocrazia, cioè di comando, attraverso il quale il monarca interviene nelle periferie e toglie nelle periferie potere politico ai nobili locali. Perché se non c'è questo processo non nasce lo Stato. Questo processo è un processo molto differenziato sotto il profilo storico e geografico, nel senso che avviene in un certo modo in Inghilterra, avviene in un certo modo in Spagna, avviene in un certo modo in Francia, non avviene mai in Italia, avviene in un certo modo in Russia, insomma avviene in modi diversi. Questo processo di centralizzazione e di distruzione del potere nobiliano, sostanzialmente, attenzione, potere politico nobiliano, non potere economico, non privilegi giuridici, no, potere politico. Se non c'è questo non si comincia neppure. Ma questo, questo non è, questo processo non è sufficiente a che noi possiamo parlare di uno Stato come noi e voi, mi immagino, pensate quando ne parlate. È necessaria la rivoluzione francese, cioè è necessaria che a un certo punto si dica basta con il rappresentante davanti a Dio, non c'è niente da rappresentare davanti a Dio, siamo noi che ci autorappresentano, è la nazione che si autorappresenta. nella, che si dà una legge fondamentale e quindi è una nazione che proclama se stessa come soggetto politico fondamentale, certo, nazione con la N maiuscola, tutto quello che volete, poi se andiamo a vedere è fatta di individui, cioè l'idea di fondo è la nazione è la legittimazione, ma il modo normale di funzionamento è il diritto civile, dove c'è i diritti più o meno naturali, più o meno civili dei cittadini, i diritti dei cittadini garantiti dal potere politico che si traduce in capacità di produrre leggi, leggi uguali per tutti finalmente, e di farle rispettare. Ecco, questo, ma qui c'è il recupero, anche se i rivoluzionari francesi non lo sapevano, c'è proprio il recupero della struttura logica del razionalismo politico moderno degli inizi, cioè di ops sostanzialmente, cioè il sovrano ce lo facciamo noi, non lo troviamo già fatto, e ce lo facciamo noi attraverso il patto, tra di noi, non con lui, non ha senso fare un patto con lui, lui non c'è prima del patto, lui nasce dal nostro patto di singoli individui fra di loro che nell'atto in cui fanno il patto diventano cittadini dello Stato sovrano rappresentativi. Vi dicevo, perché questo esiste, ci vuole l'idea che c'è il soggetto uguale, che è l'essenza della politica, il mattone fondamentale della politica, il soggetto uguale, e poi ci vuole il cristianesimo secolarizzato. Cioè ci vuole l'idea che questo mondo non è abitato, ecco, non è abitato dalla divinità, mentre a Roma il mondo era abitato dalle divinità. Era teologia civile nel senso storico del termine, quella di Roma. Noi invece crediamo che Dio sia nei cieli, e che sia sempre più, e tanto più passa nei secoli, quanto più crediamo che il suo essere nei cieli ci coinvolga sempre meno. E crediamo che tutto ciò sia il cristianesimo, cioè il cristianesimo come la religione che dedivinizza il mondo. Questa è l'essenza del cristianesimo, la dedivinizazione del mondo, cioè togliere al mondo ciò che resiste, perché poi questo vuol dire, togliere al mondo le qualità, ciò che resiste alla manipolabilità, alla capacità umana di manipolare il mondo. Noi abbiamo trasformato il cristianesimo in una dottrina universale dei diritti umani, in una idea universale della necessità della convivenza civile, pacifica. Ma non crediamo che Dio sia il fondamento della politica. Questo lo credeva Dante, beato lui. Poi naturalmente davanti al disordine diceva che il disordine è il peccato. Noi partiamo dall'idea che c'è il disordine e che al tempo stesso c'è una promessa o esigenza di neutralizzazione, di conciliazione, e questo è ciò che resta del cristianesimo. Politicamente, poi ciascuno nel suo cuore lo vive come vuole, se vuole, e poi esiste una capacità sociale della chiesa, ma questo è un altro discorso. che stiamo parlando di strutture logiche immanenti alla politica. Il Stato moderno ha bisogno di cristianesimo secolarizzato, cioè ha bisogno di una crisi, nasce da una crisi, le guerre civili di religione, quando il nome di Dio non è più il nome della pace. Non si può più dire siamo tutti fratelli in Dio perché di Dio, Dio si dice in troppi modi e sono tutti nemici l'uno dell'altro e l'Europa si ammazza per 150 anni e allora bisogna trovare un Dio in nome del quale nessuno si ammazzi, cioè un Dio talmente esile, talmente svuotato, talmente di poche pretese e al tempo stesso talmente cogente da far sì che egli sia capace di produrre, di essere la legittimazione originaria della pace e non motivo di guerra. Questo Dio, storicamente è il Dio del deismo, è il Dio orologiaio, è il Dio che crea il mondo, gli dà delle leggi e poi si ritrae e lo lascia funzionare. È il Dio che dà ai suoi tre figli i tre anelli diversi e il scopo dei tre figli è capire che quei tre anelli diversi gli ha dati appunto Dio e che loro sono tre fratelli, figli dell'unico padre. Questo che per noi diventa la dottrina dei diritti umani. Cioè questa teologia politica svuotata è necessaria perché ci sia lo Stato moderno che è al tempo stesso una teologia politica dei diritti umani e l'idea che lo Stato è la struttura sovrana da noi costruita, che rappresenta noi, che non ci precede, non ci precede, rappresenta noi e serve a farci stare in pace e a garantire i nostri diritti. L'età moderna comincia con la lotta contro l'autoritas. È il grande nemico, è il principio d'autorità, cioè è qualche cosa che preesiste, è il principio paterno, viene da augere, vuol dire far crescere. Noi pretendiamo di nascere adulti e di non avere bisogno di nessuno che ci faccia crescere. è contro il paternalismo, contro l'idea che qualcuno si prende cura di noi, che qualcuno risponde di noi. Noi rispondiamo di noi stessi, altro che l'autoritas. Noi conosciamo solo la potestas e, se vogliamo adoperare quel concetto, imperium, assolutamente non nell'accezione che abbiamo sentito poc'anzi, ma nell'accezione di potere militare che diventa potere anche territoriale. Ma nel senso moderno del termine. Sono coordinate concettualmente diverse. I giochi dentro la modernità si giocano fra una modernità empirica a prevalenza monarchica, cioè il monarca preesiste alla nazione concetto dinastico, il principio d'autorità fatto valere al congresso di Vienna. concetto poco fruttuoso che copre però, vi dicevo, delle realtà di accumulazione, di centralizzazione del potere che sono comunque sia indispensabili a che esista materialmente uno Stato. Poi c'è, vi dicevo, l'elemento di rottura rivoluzionaria quando si dice basta, il sovrano non è lui, il sovrano siamo noi e siamo noi nella misura in cui noi costruiamo noi stessi come sovrano. Questo che sembra un concetto difficile è facilissimo. Noi costruiamo noi stessi come sovrano quando affermiamo la volizione dell'universale. Cioè quando ciascuno di noi, contemporaneamente agli altri, dice non voglio più vivere come un individuo che pensa soltanto a se stesso ma voglio vivere all'interno di un corpo politico collettivo costruito da noi stessi. Questo lo facciamo due volte. Prima volta nel momento del potere costituente che è una rivoluzione. Quando tagliamo la testa a qualcuno che ha voluto essere sovrano al nostro posto. E tutte le volte che andiamo a votare. Quando andiamo a votare in linea teorica noi stiamo dicendo usciamo di casa come borghesi e entriamo nella cabina elettorale come cittadini esprimendo un voto che è al tempo stesso particolare per quanto riguarda gli interessi che cerchiamo di interessi legittimi che cerchiamo di veicolare attraverso quel voto. Ma che è universale nel momento in cui noi attraverso le elezioni politiche generiamo una istituzione sovrano rappresentativa il Parlamento alla cui volontà saremo obbedienti anche se il nostro partito ha perso le elezioni. Perché lì parla la legge del sovrano che è un sovrano rappresentativo che funziona empiricamente a maggioranza non essendo un singolo soggetto. Questo è purissima teologia politica è la teologia politica moderna cioè è la costruzione di un universo di legittimazione diciamo così strategica. Noi pensiamo che si debba vivere uniti neutralizzando il conflitto. Noi pensiamo che si debba vivere uniti ciascuno di noi facendo due cose. A. Perseguendo i propri interessi individuali B. Volendo l'universale. Poi ci sono legittimazioni più corpose legittimazioni che appunto ci siamo inventati nel corso ma stiamo parlando a questo punto dalla fine del settecento a oggi cioè pochi minuti della storia universale legittimazioni più corpose che ci siamo inventati o che abbiamo pensato siano indispensabili per dare un po' di verve a questa struttura che vi ho esposto cioè la legittimazione non soltanto della volizione dell'universale in senso astratto ma la legittimazione data dal fatto che l'universale c'è già in natura e si chiama nazione e che si tratta di esprimerlo attraverso lo Stato oppure la legittimazione fondata sul fatto che l'universale esiste già in potenza dentro la società ed è la classe universale del proletariato queste sono le due grandi legittimazioni che abbiamo come dire messo in primo piano in qualche modo sostantive per per occultare per non per non lasciare sola la legittimazione strategica teologico-politica chiamiamola che è quella della necessità della produzione di unità per evitare la guerra civile e per implementare i diritti dei singoli come vedete abbiamo proprio sono orizzonti completamente diversi che rispondono a esigenze storiche diverse a strutturazioni della società completamente diverse a idee della religione completamente diverse e e ciò è assolutamente ovvio e non ci vedo niente di di strano tra l'altro sotto il profilo storico la parola impero ha dato origine cioè è venuta a significare in età moderna una configurazione di potere reale e tuttavia più debole rispetto a quella dello Stato un impero è qualche cosa di più più articolato al proprio interno e alla fine o diventa come uno Stato conserva il nome di impero ma diventa di fatto come uno Stato oppure è una configurazione di potere nemica dello Stato cioè l'impero asburgico alla fine poteva chiamarsi impero quanto voleva però cercava di assumere le modalità di funzionamento di uno Stato di uno Stato plurinazionale e infatti era percorso da questa grande contraddizione per cui c'era un'unità che tutte le mattine veniva salutata dall'inno che gli augurava la buona giornata e la lunga vita cantato in undici lingue diverse questo è un impero oppure l'impero zarista Poraccio cercava di funzionare come uno Stato poi non ci riusciva ma insomma cercava di l'impero tedesco era una bella complicazione sotto il profilo del diritto pubblico cioè il secondo impero quello di Wiesmar che insomma una discreta complicazione sotto il profilo del diritto pubblico ma insomma chiunque lo percepiva come uno Stato mentre invece l'impero inteso come sacro romano non a caso è stato deriso e distrutto dall'esponente più tipico della statualità moderna cioè da Napoleone il quale curiosamente ma forse non tanto perché nella parola impero c'è un plusvalore di legittimazione enorme in realtà per cui uno come Napoleone prende uno Stato che si sta formando attraverso la rivoluzione e alla fine della rivoluzione esce uno Stato infinitamente più funzionante meglio funzionante più accentrato dello Stato che era entrato nella rivoluzione uno dei principali veicoli di questa trasformazione di iperstatualizzazione della Francia è Napoleone il quale deride e distrugge il sacro romano impero perché non contava più niente perché non esisteva sostanzialmente e perché comunque si rifaceva a un principio di legittimazione premoderno ecco e poi prende il nome di imperatore non della Francia ma dei francesi che significa qualche cosa perché sotto la vicenda dello Stato moderno sotto la legittimazione trascendentale teologico-politica sotto la legittimazione materiale della nazione della classe c'è sempre l'individuo ed è questa io penso la differenza strategica rispetto al mondo antico che l'individuo lo capisce lo conosce ma non ne fa il cuore della vita